Siamo al Forboario perché è stato inaugurato il parcheggio da tempo oggetto di riqualificazione e sistemazione, un'area funzionale a servizio dell'intera città. Oggi è una bella giornata per la città di Fano, sicuramente restituiamo questo parcheggio dopo un correre veramente velocissimo, con una ditta adempiente a tutti gli effetti che è stata efficace e ci ha permesso di mantenere una scadenza importante che era appunto luglio. Luglio per riconsegnare un parcheggio con 322 stalli per auto, 45 per bici, 10 per moto, 12 per persone con disabilità, 2 per persone con maternità. In effetti all'inizio, se vedete, abbiamo proprio dedicato una zona alle fragilità e spalmando anche dei parcheggi invece per disabili all'interno di ogni singola corsia. Abbiamo abbattuto, è vero, 21 alberature per problemi logistici della mobilità e anche di nuovi stalli per metterli in ordine, ma ne abbiamo ripiantumati 31 e soprattutto ci tengo a dire che è stato dato ancora maggior sicurezza a quello che è il verde perché sono state fatte delle cordolature a ridosso degli alberi proprio per non permettere più, come succedeva prima, di andare a ridosso con le macchine. Ma soprattutto il tema più importante è che finalmente c'è luce in questo parcheggio, quindi c'è sicurezza, lo si può attraversare di giorno e di notte al meglio. Anche io che sono una donna e spesso di notte venivo a parcheggiare, devo riconoscere che non mi sentivo così sicura e invece oggi lo sono. Spesa totale? La spesa totale, l'investimento è di 800 mila euro, ricordiamo che 200 mila euro siamo riuscite ad ottenerle grazie a un finanziamento regionale al quale ci siamo candidati e quindi oggi volge al suo termine una pagina della città di cui sono molto contenta e che voglio raccontare ringraziando veramente tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui. Una bella risposta alla città dopo sette mesi di lavoro. Sì, questo era un altro di quei temi posti dalla città da quando mi sono insediato, un impegno che avevamo preso, ma vi voglio togliere anche una soddisfazione. Questa è un'ulteriore risposta a tutti quelli che facevano ironia e criticavano siamo la città dei rendering. Il tempo è galantuomo, i rendering stanno diventando tutti realtà e penso che un'amministrazione la migliore risposta che possa dare alla propria cittadinanza siano i fatti. E questa è un'altra risposta di fatti. Oggi abbiamo inaugurato il nuovo parcheggio del Forobario, un parcheggio che era in una situazione indecorosa, in una situazione di insicurezza. Io ricordo tantissime richieste, tantissime lamentele. Oggi abbiamo un bellissimo parcheggio con posti aumentati, un'illuminazione per la notte, quindi un parcheggio più sicuro e soprattutto anche più bello, che va a migliorare il servizio della qualità della città e va a migliorare la città nel suo insieme. Quindi non nascondo la soddisfazione, ma soprattutto è una bella risposta a tutti coloro che non perdono occasione per fare una polemica, perché anche su questo le critiche non erano mancate, ma penso oggi siano tutte superate con i fatti, con questa bella realizzazione.